In finito Picerno, la squadra di Emilio Longo infila la quinta vittoria di fila, supera l'Avellino per 2-0 al Curcio nello scontro diretto e si isola al secondo posto nel girone C di Serie C a meno 3 dalla Juve Stabia capolista di Murano, sempre più capocannoniere e Sant'Arcangelo, le reti che piegano la squadra di Michele Pazienza al secondo K.O. di fila, dopo quello casalingo con il Giuliano. Le formazioni, solito 4-2-3-1 per Longo che si affida a Vitali, Sant'Arcangelo è esposito alle spalle di Murano, conferma per De Cristofaro Terzino. 3-5-2 per Lavellino, in assenza di Tiago Cionec, linea difensiva affidata ad Armellino, mentre in attacco Pazienza sceglie Marconi e Sgarbi. Avvio tambureggiante dei padroni di casa, due minuti e Murano va al tiro, murato da Cancellotti, poco dopo il quarto d'ora la sblocca il Picerno. Murano chiede e ottiene l'1-2 da Sant'Arcangelo, supera Mulè e batte Ghidotti per l'1-0. Rete numero 13 in stagione per l'attaccante in stato di grazia. Una volta in svantaggio, Lavellino reagisce. Sugli sviluppi di un corner, calciato da Lores Varela, Marconi sfiora la rete del pareggio con un tentativo di testa, ma trova la buona risposta del portiere Merelli. Rigione per Sannipoli e Gori per Palmiero sono le novità dell'Avellino nell'intervallo. Armellino scala a centrocampo, Sgarbi si abbassa come esterno a sinistra, ma a farsi subito pericoloso è il Picerno. Perde palla Lores Varela, ne approfitta Gallo, che avanza di qualche metro e calcia col destro dal limite, pallone oltre la traversa. Ancora Picerno, Lucani pericolosi con la conclusione di Vitali su assist di Sant'Arcangelo, prodigio di Ghidotti. Poi è decisivo il tuffo di testa di Rigione a evitare il tapin di Sant'Arcangelo. All'ora di gioco arriva però il bis della squadra di Longo, gran giocata di Sant'Arcangelo che con una Veronica fa fuori Mulè e Rigione e in caduta batte Ghidotti in uscita, 2-0 al Curcio. Pazienza a questo punto prova a intervenire dalla panchina con Falbo e Patierno per Ricciardi e Marconi, ma è il Picerno a sfiorare il tris, miracolo di Ghidotti sul colpo di testa di Allegretto che prende il tempo a tutti in aria e sfiora il 3-0. Nell'ultimo quarto d'ora la squadra di casa addormenta i ritmi e l'Avellino reagisce solo con un colpo di testa di Gori fuori misura. Nemmeno i sette minuti di recupero incidono sul punteggio. Vola il Picerno che stacca l'Avellino e si presenta in seconda piazza alla trasferta del prossimo turno sul campo del Cerignola. Si fermano ancora gli Irpini, chiamati a ripartire dal derby del prossimo weekend con la Turris.